buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial per far vedere come inviare la domanda di col veloce domanda che è possibile essere presentata dai gli aspiranti al ruolo che abbiano richiesto il ruolo dalla posizione gm per tutte le province della regione in cui sono inseriti oppure da gae per tutte le sedi della provincia in cui sono inseriti il ruolo c'è l'opportunità dal 27 di luglio fino alle ore 12 del 31 luglio di fare la domanda di col veloce l'istanza entrando nelle istanze online andando alla istanza presentazione domanda procedura assunzionale per chiamata del dm 25 2020 andando a vai alla compilazione si può fare e proprio l'istanza si fa vai alla compilazione si entra in una pagina riservata alla presa d'atto della dei dati personale dell'informativa sulla privacy per cui facendo accedi da questa pagina si entrerà in un'altra pagina dove sono riferiti tutti i dati personali e dell'ana grafica della dell'aspirante al ruolo dell'aspirante alla col veloce facendo ancora avanti si entra proprio nella pagina riferita ai dati della gradatoria di inclusione in questo caso è una gradatoria gae facendo ancora avanti si entra nella compilazione la domanda la sezione che gestisce la domanda di col veloce facendo azioni disponibili e inserendo facendo inserisci la domanda si possono scegliere le regioni per cui fare domanda se per esempio uno scegliesse il piemonte si potrebbe accorgere che nelle province del piemonte non ci sono posti disponibili per esempio scegliendo torino noterete che si nelle gradatorie di riferimento si apre una finestra in cui dice non è possibile esprimere preferenza nella gradatoria perché non ci sono posti disponibili dunque in piemonte perché si può vedere anche nelle altre province tipo cuneo o tipo novara succede la stessa identica cosa per cui in questa ca in questo caso proprio non è possibile fare la domanda in piemonte per le gradatorie di posto comune per la primaria perché non ci sono posti esprimibili tornando indietro dunque si può fare una scelta diversa e scegliere per esempio una regione in cui i posti disponibili esistono consigliamo in questo caso sapendo che ci sono posti residuati di posto comune primaria in lombardia di scegliere appunto la lombardia e per esempio scegliere la provincia di milano che invece posti disponibili ne ha da è obbligatorio dare un campo di preferenza un ordine di preferenza milano mettiamola come prima e dire che anche come prima vogliamo esprimere la la gae tra l'altro è l'unica gradatoria in questo esempio che abbiamo ma avessimo più gradatorie potremmo dare l'ordine di preferenza quale gradatoria dare priorità se ci fosse la possibilità di entrare nel ruolo in più gradatorie poi per esempio si sceglie una seconda provincia si dà un ordine di preferenza successivo 2 e come gradatori appunto diamogli il riferimento prioritario questo punto facendo questo esempio delle due province di milano se ne possono compilare anche di più di due ovviamente però questo serve per esempio si può fare inserisce la domanda viene inserita con successo facendo poi il tasto inoltre la domanda viene inoltrata e si parteciperà per il ruolo per la provincia di milano e per la provincia di monza brianza speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori un saluto da lucio ficara grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti